3 falsi miti sull'alimentazione. Sfatiamo certi concetti ancora ampiamente diffusi e facciamo chiarezza. 1. Mangiare grassi aumenta il colesterolo. Tanti ancora pensano che i nostri livelli di colesterolo dipendano da quello che mangiamo e che quindi vadano eliminati alimenti come le uova, come i grassi in generale. Si sa ormai da tempo che in realtà il colesterolo presente nei cibi influisce al massimo un 15% sulle nostre analisi. Tutto il resto dipende dal colesterolo che produce il nostro fegato. Ed è lo zucchero che gliene fa produrre di più, non i grassi. Quindi non aver paura dei grassi. 2. È necessario abbassare il colesterolo. Il mito del colesterolo cattivo è uno di quelli più difficili da scardinare anche nel mio lavoro. Il colesterolo è vita e ha tantissime funzioni importantissime nel nostro corpo. Il vero rischio cardiovascolare legato al colesterolo è quando questo colesterolo è ossidato oppure quando è glicato oppure quando tiolattonato, cioè diciamo omocistenizzato, cioè della omocistina attaccata, tra virgolette. Per ridurre l'infiammazione che può modificare questo colesterolo sono importantissimi lo stile di vita e un'alimentazione antinfiammatoria. Quindi togli i cibi ultraprocessati, gli oli vegetali come l'olio di mais, l'olio di sin di girasole, l'olio di arachidi che sono superinfiammatori e mangia meno zuccheri, meno cereali e derivati. 3. Le proteine fanno male, falso, anzi ultra falso. Non avere un buon apporto proteico, specialmente andando avanti negli anni, aumenta esponenzialmente il rischio di fragilità e disabilità. Questo può favorire la sarcopenia, ovvero la progressiva perdita di massa muscolare con gli anni e poi anche l'osteoporosi, la perdita di massa ossea, di densità ossea. I nostri muscoli sono gli organi antinvecchiamento per eccellenza, quindi nutriamoli con un buon apporto proteico e con una buona ovviamente attività fisica, specialmente di forza. Quindi mangia il giusto quantitativo di proteine, fai per esempio 1,5 grammi di proteine per il tuo peso corporeo ideale. Questo può essere un ottimo punto di partenza. Poi questo naturalmente andrebbe personalizzato in base a tanti fattori. Allora c'è qualcosa che cambierai adesso nella tua alimentazione? Scrivimilo qui sotto nei commenti e non ti dimenticare di seguirmi, di mettere like e di salvare il video.